Ha interpretato un ruolo difficile, una madre in continua lotta con il dolore. Sì, una mamma che ha avuto un figlio molto giovane, che è già stanca nonostante l'età e che fa il tutto e per tutto per poter salvare suo figlio. Non posso spoilerare di più, ma ci prova in tutti i modi per quello che può, insomma. Una madre debole, insoddisfatta, come è fatta a costruire questo personaggio dalle tantissime sfaccettature? Io credo che Alessia, il personaggio che interpreto nella Terra dell'Abbastanza, sia già abbastanza stanca. Secondo me ne ha vissute già abbastanza e quindi quando la vita per l'ennesima volta la metta alla prova non ha la forza, non sa, non ha i mezzi, non ha la cultura. La cultura è ignorante, nel senso che ignora se c'è una possibilità e qual è, semplicemente accetta. Come è stato lavorare all'opera prima di due registi giovanissimi, non ancora trentenni? Sono giovanissimi, però devo dire che fanno le scarpe a molti registi molto molto più grandi, nel senso che umanamente sono dei gran signori. E nonostante siano giovani, loro avevano ben chiaro quello che volevano già dalla sceneggiatura. E sul set non hanno mai avuto esitazioni. È successo solo nella penultima scena che mi hanno chiesto una doppia possibilità, perché temporalmente però è stata girata molto molto prima del finale, quindi secondo me è stata una scelta giusta. Sono bravi. Cosa ti ha colpito di questa storia? La verità. Il fatto che non fosse edulcorata né nella scrittura né per la regia. C'è molto rispetto per le lacrime, per il dolore, per l'umanità delle persone. Tutti noi, anche Max Tortola, bravissimo, abbiamo interpretato dei genitori in delle condizioni veramente quasi all'estremo, insomma. Però c'è molto rispetto e molta umanità e molta dignità.